Ciao a tutti ragazzi, bentornati su The Room 3 Allora ragazzuole, abbiamo usato l'accensore, come abbiamo chiamato l'altra volta Non so perché è uscito fuori l'accensore, ha detto così Allora, intanto vediamo un po' Come caspita è fatto sto affare Questo anche penso sia da Fiorgiù Ok Ok, un pifero Qua perché tipo E qua non possiamo farci niente però Non è che magari Dobbiamo far scorrere questo, vero? Eh infatti Immaginavo No, altre cose non le fa per Non è che devo vedere qualche oggetto cos'è? Mi che l'ho visto se c'hanno gli oggetti, non mi sembra comunque Ok, qua sono potuto entrare Fermi tutti Non questo Allora Poi ci assomiglia qua alla cosa che dobbiamo fare qua Ah, forse ho capito Fermi tutti, fermi tuttissimi Dobbiamo trovare quella che ha la grata Eh, ma così è quella tecnicamente giusta Ah, ho capito, ho capito Eh, ma qual è quella giusta? Questa Quindi aspettate Ok Perfetto Quindi chiudiamo con questo Dove che aspetta? Chiediamo su qual Troviamo Eccolo qua Perfettissimo Altrimenti non potevano farcelo entrare Ecco perché Adesso sta dicendo Ma perché scusa c'è questo problema qua? Ok Che succede? Un altro elemento Attenzione E siamo di nuovo nella stanza E noi eravamo là davanti Capitolo completo Arrampicarsi sul faro È stata un'impresa memorabile Sebbene la sua luce Possa illuminare i problemi a venire Sare il tuo a doverli affrontare Attenzione Fico Continua la partita Quindi mi hanno trovato il secondo elemento Mizzica Ci abbiamo messo tipo tre video Per trovare un elemento Cioè come minimo Questo qua sarà lunghissimo come serie O sono io che sono rincolionito? Sì sono io che sono rincolionito ragazzi Lo so scusate Allora caricamento Quindi adesso siamo nella sala Qua là delle luci Esatto infatti Siamo tornati dalla sala delle luci Perfetto Qua nel frattempo Non abbiamo ancora trovato niente Da far qua Però possiamo mettere un altro elemento Almeno quello C'è già uno che sta avvorticando Divertentissimo E mettiamone già un altro Da avvorticare Ed ecco il secondo che avvortica Quindi adesso dovremmo trovare un'altra cosa In queste specie di acque Diciamo Acque di nulla Attenzione Questo Eh immaginavo di dover far così Va bene Ah dobbiamo rifare No aspetto Per un pifero Eh immaginavo Ok farmi ragazzi Un secondo che Dobbiamo trovare la giusta Combination Per mettervi a posto Questo pezzo Ok Perfetto Ecco un'altra porta Che si apre Così a puffo Altra stanza ragazzi E altra camera Vediamo qua Un altro di quegli enigmi con le luci Oddio Aspettate Aspettate Devo capire Ah Meno più meno Quindi è meno Più meno Però no aspetta Aspettate Partito almeno Quindi è così Sì Sì Ok Ok Perfetto Sono sempre un po' incasinata Come cosa Però se si capisce il meccanismo Si va abbastanza tranquilli Questo Ha un aspetto stranamente familiare È anche un po' inquietante Qua Place token here Un piccolo meccanismo Cos'è? Una chiave Che figo Ah Place token here Perfetto Quindi abbiamo trovato una chiave qua Qua sopra Ho un'altra parte scritta Interessante Eccoti qui Con la tua carne I tuoi respiri e tutto il resto Sembra che tu abbia un talento innato per l'esistenza Una dote utile Di cui i miei apprendisti passati Erano penosamente privi Forse la mia ricerca Sta davvero per giungere al termine Sebbene questa biblioteca sia l'unica al mondo Ti suggerisco di tenere a base la tua curiosità Com'è noto Greyholm Non è il luogo ideale Per mani inquisitorie Non restare l'inarme Il maestro Ok Vediamo un po' qua Ok Qua non posso fare niente Ah Diva voi Eh si Qua è impossibile arrivarci Perché al momento La parte diciamo Con le luci E la sopra Qua Qua c'è tipo Questo leggio Sembra che non funzioni E infatti c'è il nullo E infatti c'è il nullo sopra C'è il simbolo del nullo Andiamo qua Sembra che non funzioni Ok Ok Posso vedarlo C'è qualcosa Secondo me dobbiamo entrare qua dentro Entriamo qua dentro Perché in effetti La luce andava in là Quindi ci fa salire Perfetto Ok Prima c'è questa parte qua Intanto Diamo luce a quel posto là Che immagino dovremmo andarci dopo Dall'attore del orologio Ok Che va giù Che va là Perfetto E questo è già tanto Poi Vediamo qua Great can Great can Ok Un oggetto di metallo E di qua E va bene Quindi c'è un oggetto di metallo Va bene Però qua c'è una forma diversa Qua è rotonda Non posso farlo andare in giù Questo oggetto qua Niente Niente Ok Continuiamo intanto con l'oculus L'oculus lo stiamo usando un po' poco Cioè nel senso in questo qua Ah Ah Ecco Perfetto Appena detta Stiamo usando un po' poco l'oculus Ok Vediamo un po' Qua ci sono giusto due cose Great can E c'è Ok Altri cose non ne vedo Perfetto Allora la luce fa fin qua Quindi è qua che dobbiamo andare Bella Ok Altro oggetto particolare E adesso si attiva lì Quindi deve fare come prima probabilmente Oddio come sta succedendo laggiù Balla Cosa sta facendo Una nuova stanza A parto Sul serio Caricamento Va bene Caricamento E caricamento sia E Boh Come vi sembra ragazzi Sto gioco per il momento Come vi sembra Il tra È un po' diverso Rispetto agli altri Vero Lo sentite anche voi È un po' diverso Sarà che ho giocato Per ultimo Old Science Penso che era così spettacolare Che Non l'ho to' Una ruota Con una manovalla Attenzione Quindi là sopra c'è un qualcosa C'è una Un corvo Sì qua non posso Tanto non c'ho la chiave Quindi Ruota con una manovalla Che secondo me è possibile anche che Ah a4 Attenzione Quindi molto particolare Qua non c'è niente Da guardare Perfetto Torno indietro Qua Un altro ingranaggio Una cavità Potrò inserire qualcosa Ma non puoi metterci questo E infatti Ne immaginavo già Attenzione Altro scritto Pergamena Cosa sai del tempo? Questo campanile fu fatto costruire dal mio bisnonno Sebbene il suo tempo si sia esaurito prima del previsto Il cammino ti apparirà all'ultimo rintocco di mezzanotte Alquanto teatrale Me ne rendo conto Ma i nostri avi capivano più di quanto realizzavano Esistono i momenti in cui il ciclo del nostro mondo Rente più accessibile a chi giace oltre il suo confine Il maestro Ok Qua Perfetto Ma qua c'è un altro pezzo del Del nullo Piccola cavità circolare Che non posso però fare Ok Qua ne manca uno Qua Ah ok Forse insieme Se Un piccolo perno di metallo Una cavità circolare vuota Penso che manchi qualcosa Questo non penso che ci vada E questo neanche Qua niente Vediamo con l'oculus sempre Meglio controllare sempre anche con l'oculus Ok Intanto qua Sì lo so Che è una piccola cavità circolare Esatto Volevo troppo Ok Quindi Ale Vediamo cosa ci troviamo qua dentro Ok Una manovalla Che immagino andrà inserita qua Tipo No Tipo qua No Forse qua sotto No Aspetta un po' Cos'è che dovremmo fare? Non sto particolarmente capendo Spostare ste agenti non me li fa spostare in effetti Quindi Perché non mi fa spostare gli oggetti? Ah no Così dovrei metterlo probabilmente Esatto Un cerchio di metallo Senza anima Ah ma questo è una canzone vabbè Quindi qua immagino di dover metterci questo E metterci questo No Perfetto Questa qui naturalmente è quadrato quindi è giusto Bella La manovalla è venuta fuori dalla cavità Qua cosa devo fare? Ok No Aspetta forse ho capito Sì no scusa Come caspita Prendo questa qua No allora non ho capito Pensavo di dover cambiare Ah ok giusto Secondo me c'è da fare qualcosa con sto qua O almeno ciò che penso C'è sta barretta perché sotto non posso usarla? È quello che mi stavo chiedendo Ah forse ho capito No aspettate perché non posso fare sta cosa che volevo fare Così? No Non me lo fa fare Ah Aspettate Forse ho capito Minchia se è particolare Allora questo così Poi E' questo Ma porco 2 Va bene Schiaccio il tasto Bella lì E abbiamo risolto anche sta cosa Fico Questi che cosa sono? Ah per muoverlo veramente? Aspetta Troppo troppo Che figa sta cosa Uno è a posto È una figata Devo farlo con tutti quindi così Allora Così 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 Aspetta no Così Così Eh no Qua devo per forza far così come era prima Ok Giù Lato Giù Lato Giù Lato Su Perfetto Eh bisognerà capire un secondo come fare gli altri due Ok Ok Lato Praticamente mi sa che dobbiamo farci fare sempre la stessa strada che Finora stiamo facendo fare alle pediene Dobbiamo farlo in continuazione Quindi su Allato Giù Allora Aspetta Perché se vado a lato Sì Se vado a lato Salgo su Vado a lato E scendo giù Anche questo è incastrato Bala lì Piano piano stiamo riuscendo a concludere tutto la Il pezzo Ok Giù Lato Giù Eh questo enigma è anche carino Abbastanza particolare ma carino anche questo Ok Faccio così Faccio così E faccio così E abbiamo Completation Di nuovo Entriamo anche qua dentro Vediamo un po' E che enigmone Attenzione Ho già visto una comunità simile Sicuramente questa Ah ah Bella sta cosa Aspettate Di qua non posso andarci Ah non mi ci fa andare per così Di qua non mi fa andare neanche E quindi scusa Come caspita Non ho capito come aspettata Così No No Sì va bene E fin qua ci siamo Ma C'è qualcosa che non mi quadra Perché se io faccio così Beh però aspetta Se lo lascio al centro In effetti mi fa ruotare Ok Ma come faccio a passare dall'altra parte Scusate Cioè non c'è una vera e propria maniera Per passare dall'altra parte Aspettate Aspettate controlliamo un attimo Qua intorno Qua niente Qua E qua niente Tecnicamente E ragazzi Cos'è che mi sfugge? Cioè più che altro La cosa strana È che posso far solo Questi due movimenti In effetti Non ha molto senso Che possa far solo due movimenti Ok Adesso ho capito 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 però Questo forse Da fare così Ora sì che ci siamo Facciamo così Facciamo così Così Ok Perfetto Perfetto Mi ha dato tanto anche l'oggetto Clicchiamo qua Un altro Va bene Allora Questo secondo me È giusto così Ok Questo è giusto così E questo È da tra Come cazzo fa essere da tra Scusate Così No Così Sì Giusto Yeah E anche questo è fatto Un ingranaggio Ottimo E anche sta parte è fatta Ragazzi Anche sta parte è fatta Ok Qua Una specie di cristallo Un'altra stampina Non riesco ad aprire Le sbarre Vediamo se c'era Qualcosa Oh Ok Quello lì È una cosa Abbastanza particolare Aspetta un po' Fatemi vedere Ancora l'ultima volta Qua Se per caso C'era qualcos'altro Da fare No Direi di no Qua non c'è niente Qua Un ingranaggio Due Quindi Direi questo Perfetto Qua ci sono pure Delle scale Se proviamo ad andare su Andiamo su È un'altra stanza Piene di stanze Prima o poi capirò Perché ci sono Così tante Cioè hanno messo 750.000 stanze È ok Però ragazzi Cioè non riusciamo Cioè È un po' un casino Con tutte queste stanze Questa rotta Ha diverse cavità Deve esserci un pezzo Mancante Non penso che sia questo Questa forse O fico Ok Io pensavo fosse una ruota Piccola Invece è una ruota Grande Una campana Sì Attenzione Distruggiamo un mezzo posto Praticamente Minchia abbiamo rotto Il cristallo Ragazzi Ok Immaginavo Guarda qua Che figata Allora Lì non ci devo andare Però No Rimani lì Eh Scusami Ah Ho capito Così No Deve essere tipo Messo È abbastanza particolare Sta cosa No Così Sì Così Ok Ok No Ho campifero Devo salire su di sopra Ok Ottimo Di nuovo questo No Il quadrante di un orologio Perfetto Qua si è rotto L'oggetto Qua altre cose Non ne vedo In effetti altre cose qua Non si vedono Ragazzi Quindi direi che possiamo scendere giù Qua c'è una porta Però non ho niente Torniamo giù Qua Quanto di un orologio Ok Forse non ho qua sopra Ma non penso Qua ci sarà qualcos'altro da fare sicuro O da mettere Perché in effetti ti fa vedere solamente quella parte Ti fa guardare Non ti fa vedere altre Sto orologio Non ho ben capito che cosa caspita vuole che facciamo Perché ruotare non posso ruotarlo A quanto pare Forse devo uscire Non mi fa uscire da questa stanza Perfetto Qua Un piccolo granaggio Non è collegato nulla Eh non posso quindi aprirla Qua Niente Qua c'è bisogno di un Di una chiave che non abbiamo al momento Forse qua in mezzo Sì Ok No non mi far giocare a scacchi Ti prego Faccio schifo Eh qua Ah ok Perfetto Devo mangiare Perfettissimo E così Bene Dove mangiarli tutti Perché essendo che il cavallo si muove a L Ci sta Mo Ah ok Ho capito Ho capito Ho capito Fammi tutti Finisci a digirare Quando Allora È un gran casino Con il Ecco Sì perché devo tenere Lo fermo da una parte Ecco qua Quindi Questo l'ho fatto Qua Cosa devo fare? Devo riuscire a far passare anche questo oggetto qua Immagino Qua Abbastanza easy Qua Così? Eh no Scusa come caspita fai a far passare Se c'è solamente uno E anche quello Eccolo qua Due Due Prima però non me ne davano due È spuntato adesso sto due Perfetto Fa bene Ah ok Sembra familiare Ormai è tutto familiare Perfetto Si è alzato su Ormai è tipo È una specie di codice morsa Sembra quasi Ragazzi è pazzesco Allora no Abbiamo bisogno di questo qua Perfetto Poi Che arriva fino a così Poi qua sono a 3 Quindi Così direi che va bene E qua sono Con uno centrale Così No Sbagliato Così Vai così Una manovra con una cavità Ottimo E anche questo l'abbiamo fatto Tan 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 Fermi un po' La statuetta mia ballerina Eh mi è sembrato infatti Di vedere Un oggetto lateralmente Ok perfetto E quindi anche questo È fatto Quindi Qua Non posso usarne questa Nella balleria La balleria fa un po' vedere È su 2 Su 2 Ok Perfetto E abbiamo aperto Un'altra stanza Allora Prima di andare Nella prossima stanza Ragazzi Vi ringrazio Intanto di aver seguito Questo episodio Ci vediamo Nel prossimo episodio Qua Su The Room 3 Su Vanessa in TV Vi ringrazio ancora Alla prossima Ciao belli E mi raccomando Mettete un mi piace Iscrivetevi Ciao ciao